Sui mercati continua la volatilità, la guerra tra Russia e Ucraina ovviamente impatta il sentiment degli investitori, ma questa settimana abbiamo il meeting della Federal Reserve. Cosa farà la banca centrale americana con i tassi USA? Quali saranno le conseguenze sui mercati finanziari? Ce lo dicono i protagonisti di House of Trading. Qua continuo con le rosse, Riccardo, così siamo 3 a 2, verdi contro rosse, e gioco una carta rossa sull'Eurostox, sull'indice europeo. Lo faccio... Cos'è, è una sorta di spread trading mi viene da dire, fra Europa e America. Bravo, bravo, esatto Riccardo, lo faccio più che altro per, chiamiamiamolo spread trading, ma anche copertura, perché in realtà gli indici se salgono, salgono tutti insieme e allo stesso modo se scendono lo fanno a bracetto. Però avendo giocato due carte verdi su due indici, entrambi americani, Nasdaq S&P 500, tra l'altro che contengono, sono due panieri che contengono in parte gli stessi titoli, no? È un po' come se avessi raddoppiato la trade, quindi è raddoppiato anche il rischio, poi raddoppierò il profitto o raddoppierò la perdita in caso positivo o negativo. Detto questo, un po' anche per compensare, un po' anche per fare una sorta di copertura di protezione, mi sono voluto giocare questa carta rossa, quindi short, su un altro indice, che è il più debole, è il più debole di tutti. Forse il nostro italiano è debole in questi giorni, tanto quanto l'Eurostoxx, siamo lì, ce la giochiamo, quindi compro i due più forti, i due americani, e invece uno short magari lo provo sull'Eurostoxx. Potrei anche essere fortunato e grazie alla volatilità che inevitabilmente domani ci regalerà la riunione della Federal Reserve, potrei magari riuscire ad eseguire entrambe le trade e, sia i long che gli short, portarli tutti a target. È difficile, ma ci proviamo e ci speriamo. Guardando il grafico, e qui abbiamo uno spaccato abbastanza ampio, se si pensa che qui eravamo nel febbraio del 2020, poi il crollo ai minimi del marzo con la diffusione della pandemia, ecco direi che non è propriamente positivo essere tornati sotto questo livello che sembra essere diventato di supporto e ora è un'evidente resistenza, forse anche psicologica, Nicola. Sì, sì, assolutamente, assolutamente Riccardo, sì, è chiaro che una risalita del mercato fino a quel livello di prezzo porterà inevitabilmente all'Eurostox a doversi scontrare con una forte resistenza. È stato un massimo storico, no, per l'Eurostox non è stato storico, però è stato un massimo annuale, prima della crisi Covid, molto importante e sono livelli che il mercato li sente, rimangono validi per anni e quindi più o meno, adesso poi ti rivelerò i livelli operativi, proprio in quella zona di prezzo dove già l'Eurostox si è avvicinato nei giorni scorsi, dove provo appunto la mia trade short. Allora, vediamo questi livelli. 3.750, che tra l'altro è un livello che ha toccato addirittura nella giornata di oggi e più o meno in realtà si è spinto anche fino a 800 negli ultimi giorni, a essere precisi, quindi andando davvero a lambire quel livello che tu facevi vedere, per esempio l'11 marzo ha fatto 3.827. Comunque è tutta una zona, un'area di resistenza che sto guardando chiaramente zoomando solo negli ultimi giorni, dove ogni volta che l'Eurostox è arrivato è poi tornato indietro, tra 7.50 e 800-830. Mi tengo basso perché vorrei appunto cercare di entrare sia su questa trade short di Eurostox, quindi livello vicino 3.750, sia sui long degli americani per avere tutte le trade aperte sugli indici. Quindi 20 punti di rimbalzo dai prezzi attuali l'Eurostox sarebbe già eseguito, con 50 punti di stop e 50 punti di target. Qui sono stato, insomma, stiamo parlando di un 1.5% circa come valore di Eurostox, sono stato un po' più largo, un po' più abbondante rispetto agli altri indici e infatti noterai la leva più piccola utilizzando un certificato con una leva più bassa, solo 3.38, sono andato a compensare questa maggiore, diciamo, larghezza di quantitativo di stop e target che ho utilizzato rispetto agli altri indici. Ti è piaciuta questa strategia? Bene, iscriviti al canale BNP Paribas, attiva la campanella e rimani sempre aggiornato sulle operazioni proposte dei trader e degli analisti che vedete sfidarvi ogni settimana alle 17.30 ad House of Trading. Grazie. Grazie.